Un partner strategico e indispensabile per tutti i fruitori dei diversi servizi interportuali. Una realtà in grado di divenire, anno dopo anno, un punto di riferimento imprescindibile per tutte le attività del Quadrante Europa. Questo è Quadrante Servizi. Nata nell'ottobre del 1988 per volontà del Consorzio Zai e di alcuni soci privati, oltre che dei primi spedizionieri che occuparono le aree a disposizione dell'interporto, essa venne creata con la missione di provvedere all'amministrazione delle strutture interportuali, oltre alla fornitura a soggetti pubblici e privati di una serie di servizi. Negli anni Quadrante Servizi si è evoluta e ampliato gli obiettivi della propria mission, diventando la realtà super partes dell'interporto, con una propria anima e identità. Punto di equilibrio tra Consorzio Zai, infrastrutture interportuali e operatori che in esse operano. La società opera fornendo una vastissima gamma di servizi, mantenendo comunque una forte specializzazione in materie quali servizi di movimentazione ferroviarie e terminalistici, servizi tecnici e informatici, amministrazione e assistenza interportuale. Il fatto di poter mettere a disposizione personale esperto e competente in grado di alleggerire le aziende e operatrici in ambito interportuale di tutti gli oneri gestionali che ne frenerebbero lo sviluppo o risulterebbero troppo onerosi se affrontati singolarmente, costituisce di certo il fondamentale punto di forza della società. Il segreto del successo di Quadrante Servizi va però ricercato nella filosofia operativa di gruppo, in grado di affrontare i problemi con soluzioni sia personalizzate che di riferimento, per l'intero sistema interportuale. La nascita dell'Istituto ITS poi in grado di formare figure qualificate capaci di entrare direttamente nel mondo del lavoro, costituisce un plus ulteriore a completamento dell'ottimo lavoro svolto dalla società. Essa non è solo efficace ed efficiente ma anche certificata, poiché vanta la ISO 9001-2008 in materia di qualità del sistema, la SA 8000-2008 per la responsabilità sociale e litica d'impresa e la BS OSAS 18001-2007 per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le verifiche ispettive cui la Quadrante Servizi venne spesso sottoposta, superate brillantemente, sono ulteriore testimonianza della qualità e della bontà del lavoro svolto dalla società. Grazie a tutti.